Ti sei mai chiesto perché una penna a sfera si chiama penna a sfera? Se la guardiamo al microscopio tutto diventa chiaro. Possiamo vedere come la pallina con l'inchiostro rotola letteralmente sulla superficie della carta, lasciando delle tracce. Questo filmato sembra ipnotizzante, quindi lo lascio per qualche secondo. E qui ci sono un altro paio di scatti di penne. In questo scatto vedete una penna nuova e quasi in perfette condizioni, anche per gli standard del microscopio. È un piacere tenere in mano una penna così, ma ecco una penna vecchia.